Coloi Franz, eletti al Consiglio d'Istituto del Liceo Ferraris, che tipo di scuola rappresentate? Noi comunque pensiamo di rappresentare una scuola che è un'eccellenza in Varese, infatti abbiamo tantissimi successi di alunni che sono riusciti a passare gli esami per l'università comunque molto importanti, dunque ci sentiamo in dovere di rappresentare una scuola che ha i massimi livelli a Varese. E dallo stesso punto di vista crediamo che magari l'eccellenza culturale preparatoria che c'è stata negli ultimi anni possa avere un po' sacrificato quest'identità di appartenenza alla scuola, sia dal punto di vista dei genitori che anche degli insegnanti e degli alunni. E quindi vorremmo anche proporre attività che ci permettono di sentirci più studenti di Ferraris, più studenti di questo istituto.